del mondo artistico, del mondo della pittura. Noi abbiamo voluto, inizialmente, partendo dal 2017, con la morte di Susi Giorgi, se vorrei che ognuno di noi in questo momento ricordasse, cara persona che è stata per ultima presidente di questa Scuola di Velle Arti Rossetti Valentini, da quando lei ci ha lasciato abbiamo dovuto cominciare a ragionare, a riflettere sul futuro della scuola. Che è quella che oggi gestisce e gestirà la scuola. La fondazione di diritto privato è nominata dal comune di Santa Maria Maggiore, che nomina quattro componenti, ed un componente, invece, per scelta nostra, è di diritto ad un'associazione, l'associazione Asilo.